la voilà la Ptonata anna icano no 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 questi qua questi qua oddio no dimmi che non è caduto ma pavora C'è no vorrei far notare il coso della nether sopra il por genere Ok, bella figlia grazie, io sono Agisius e oggi siamo... Sì, io sono Alex Giusto, mi sono dimenticato Eh no, aspetta, sono in F5, aspetta Venga qua, eh No, non parlo, non parlo E oggi siamo nel Nether Allora, pensavamo di esplorare la fortezza Ma visto che tanto Ale l'ha già esplorata E tanto le fortezze sono cose già fatte, già viste, già riviste Pensavamo di riprendere il tunnel che abbiamo fatto l'ultima volta Che abbiamo iniziato a fare l'ultima volta Ma portare le cose? Salve, pigmen No, sì, noi continuiamo a scavare dritti Comunque volevamo fare un altro portale per trovare un'altra, insomma, terra Un po' più bella di quella che mi ha scavato Sì, perché quella lì è proprio... Cioè non c'ha animali proprio neanche a pagarla Andiamo di Z Dobbiamo arrivare a Z1000 euro No, aperta, ma nel Nether non è così Nel Nether... Oddio, è esplorso un piccolo Nether è otto volte meno, tipo Quindi duecento blocchi basta, no? Sì No, aspetta, il suono... Te lo dico io, eh 245 blocchi Beh, noi andiamo un po' avanti dopo... Beh, arriviamo a 400 che facciamo prima A parte che non sappiamo con la certezza di spuntare fuori un'isola bella, quindi... Sì, è vero Beh, sempre meglio di quella lì Tu metti le torce dietro il me Io le metto, le metto Eh... sì Ma meglio così Piuttosto che... Fare tunnel... Che... Fare ponti dove tipo... I gas ti fanno esplodere la testa Ok Dopo ci facciamo una bella rotaia Fino al portale Fatta Ah no, ho trovato la fine Ma... Attenzione, conduce sempre a niente Lava, 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 lava... Oh merda Oh merda Morto No, 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 no Ho tre cuori, ho tre cuori, ho tre cuori Faccio, ti devo salvare Dai, rigenerti Eh... Bello che non ciò Aia Snake, what's wrong? Snake? SNAKE! SNAKE! What the fu- Ehm... Aia Ehm... 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 Stiamo sicura che non mi hai dato il tuo di piccola opinione? No Il mio è tipo finito manually Non lo sont tenuto Ecco, vedi la lava, vedi la qua, eccolo qua Corri, corri, corri Scappa, scappa L'ho tappata, l'ho tappata, stia tranquillo Aiuto, aiuto Stia tranquillo Allora, ho abbastanza spazio? L'ho fatto di 3 e invece era di 2 Eh, questo qua, questi qua, questi qua Eh, si, si Oddio, no! Dimmi che non è caduto Matta, porca Ma che fichi? Che è colpa tua Non è colpa mia Uno, due Adesso bastano o no? No, non bastano Andare a prendere l'ultimo che abbiamo a casa? Si Vabbè, allora spaccatevi, vado Fermi tutti Avete notato? Mi è sparito il pezzo di ossidiana E naturalmente Quando pensate che me ne sia accorto Qua è alto 2 o alto 3 il portale del nederlo? Ehhh Ehhh Ne servono due ale Lo spingono nelle fiamme Ah no, aspetta è vero, loro non possono bruciare No Non bagno Ma neanche con l'accendino Eh? Neanche con l'accendino Io non c'ho l'accendino No scusa dove è comparso questo pezzo di... Ossidiana scusa Eh, me ne vado a prendere due se l'avevi No ti giuro È comparso un pezzo di ossidiana nel mio inventario Ce l'hai avuto prima No, giuro Sono convinto che volete tutti capire cosa sia successo, vero? Beh, ecco spiegato il mistero Ma l'era con l'accendino? Il premio per il gioco più bugato va a... Minecraft Grazie Ma hai acceso il portale Eh no, ti stavo aspettando Accendino Eh Scusi Eh nooo Maledetto si è in giusto il mio portale Cos'è? Cos'è che c'è? Non lo so, aspetta, sta caricando il terreno Il mio non va proprio a pano Ah no, ok Ci sono Un albero Un albero con me Non vedo Non vedo Non vedo Devo stare una finta Si Ok No, ci sono Falude Cioè no, vorrei far notare il coso del... Nè del sopra l'albero Siamo nella falude Si, e ci sono i conigli Anche le pecore Oh, però qua c'è la pianura Un enderman, vado a ucciderlo Dov'è che è l'enderman? Ah Siamo nella pianura Perfetto questo luogo per costruire la casa Si Falude, pianura vicina Cioè c'è anche un villaggio tipo Ugo Da benedizione di Dio Dio Ma c'è anche la giungla, no cos'è? La cosa nera Si, si, si No, andando a me Si, la data a me, la data a me Guarda quante pecore Anche uno Quali sono gli alberi? Quali come si chiamano? Quarcia nera? Eh? Ah si, vero Quarcia nera Che abbiamo? Abbiamo Ah, pianura, si Stra bello Stra bello sto Eh Posto E' proprio più perfetto di così non potrebbe abitarci Si, è vero No, più perfetto sarebbe stato quello Cosa Quello con la terra russa Con la sabbia russa Eh, se no ho ancora un villaggio vicino Beh, questo non lo puoi sapere Non abbiamo ancora esplorato niente Eh, è vero Le galline Sono gli animali del mondo Le galline Le galline Va bene, non ho mazzarmi tutte a pagare Ecco Come l'ho detto Beh, direi che... Si, potremmo concludere qua, che ne dici? Esatto Un nuovo corso trovato Della mia spada di chiama Oddio creeper, salve Oddio Oddio quanta gente c'è Allora, aiuto, aiuto, vi diamo una mano Mazza No, 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 no Mazza Broco Questa spada di chiama te facevo one shot tutti eh Si, ho capito Ma me l'hai sparato addosso al creeper Cioè, mi sfugio nella faccia Guarda le mose su di creeper Un girasole, guarda Ci sono dei girasoli Oh, che è che mi picchia? Il ragno che è dietro le tue spalle Guarda i girasoli Mmm Bene, direi che possiamo... Oh, ci sono anche i fondi, guarda Vero? Beh, si Direi che possiamo decisamente concludere qua Quindi, se il video vi piace trovate il tuo commento Mettere in giaccia Gli iscriviti, anche i maiali I maiali I maiali Si, c'è tutto Le mucche però si è, cioè le mucche sono essenziali, cioè E infatti Perché ci siamo per l'anciante in table Vediamo un attimo mentre lagga generando il mondo si trovano le mucche Lava, 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 lava Lava Si, c'è un buco proprio con la lava tipo trappola mortale 2.0 Ok C'è, no ma qua, no, vieni a vedere Io ho detto lo scioglio C'è, occhio al buco, c'è un buco e c'è dentro la lava Oh Oh Quindi ragazzi, il video vi piace trovate il tuo commento Il slime Oddio Il slime Possiamo fare i pistoni appiccicosi adesso Vero Stavo dicendo, se il video vi piace trovate il tuo commento Mettetemi via sempre Iscrivetevi e quando lo smetterò di raggare Ci rivedremo in un prossimo video Quindi Ciao creeper e bella ragazza Eh 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 Facciamo prima così E mi piglio purtroppo dei danni Non c'è... Olo silenziate col servitore come ha fatto lui con me Oppure ve li dovete pigliare quei danni Mi hai sconfitto Mi hai sconfitto Ah già hai sempre disegno Ma sono troppo forte Troppo forte Ho